Allora, il politico è una figura sacerdotale, non tutti, la gran parte dei politici sono figure sacerdotali, ossia i politici devono mostrare che ti offrono la salvezza in terra, non nell'aldilà, se gli dai il voto loro ti offrono la religione che sarebbe io ti aiuto e ti faccio avere le cose che altrimenti tu non avresti. Ci sono figure sacerdotali, mentre il sacerdote in senso stretto promette un aldilà che non ha costi, perché è post mortem, non può promettere un mondo che è nell'aldilà, perché non ti votano, cioè tu non dici, ti do l'arretto di stadinanza quando sarai morto, quindi è una religione dell'aldiquà. Quindi sono sacerdoti che promettono il benessere non solo dell'anima ma soprattutto materiale nell'aldiquà, il che spiega questa passione per la spesa pubblica, va bene? Se no non si spiega, perché tutti quanti fanno questa operazione di promettere, chi più chi meno, tanto che se qualcuno provasse a non promettere niente non prenderebbe dei voti. Faccio notare una cosa su questo aspetto sacerdotale, infatti se noti quello che sta avendo gran successo in questo momento non è il dare soldi, sono i bonus, che sono proprio quelli destinati all'acquisto del bene di cui tu senti specificamente la mancanza. Il caso classico è il bonus monopattino, perché? Perché ora fatico prendersi il monopattino, io non me lo posso permettere perché il mio reddito non lo permette, e però con il bonus fondamentalmente posso evitare di sentirmi davvero povero. Sono povero come ero povero prima, però c'è il monopattino fondamentalmente. Sì, e poi c'è questa idea che siccome i giochi sono fatti, tu puoi ciucciare solamente l'elettorato marginale, quindi io ciuccio i monopattinisti, tu ciucci non so che cosa, e credi spostando questo 1-2% facendo dei favori specifici a gruppi culturalmente definiti, probabilmente come nel marketing, di avere quei voti incrementali in più che ti consentono di ottenere la nomina. Però è tutto funzionale alla tua nomina che dipende dalla segmentazione, da marketing che tu fai delle esigenze della gente, rispetto a dei beni che tu offri perché loro per sé non sono in grado di averli. Sarebbe carino invece di dire ti prometto, questo nel mondo sbagliato perché abbiamo detto che i polizi sono sacerdoti, sarebbe carino che tutti dicessero signori, non vi promettiamo niente perché noi pensiamo che il meridione, le nano imprese e il lavoro e questo sarà il vostro avvenire. Siccome è così non ti voterebbe nessuno, devi promettere i bonus e i bonus a fronte di non coperture creano debito, ma non creano mai debito che tu tiri fuori nominalmente studiando i bonus, perché poi la pressione europea e la pressione dei mercati fa sì che più di tanto tu non possa combinare. E chi proponi come ministro del tesoro spendaccione viene mandato a casa e arrivano, come posso dire, quelli che fanno l'inquisizione, gli inquisitori arrivano. Tu non puoi non capire che il debito pubblico è politica pura, è il consenso e la democrazia col diritto universale di voto, ti piaccia o no. Quindi il debito pubblico c'era anche prima, ma era un debito pubblico legato alla guerra, alle vanità dinastiche. Il debito pubblico successivo alla seconda guerra mondiale è un debito pubblico legato al consenso politico che tu vuoi avere dalle persone che non hanno un reddito sufficiente, diciamo così, ottenibile dal mercato.